ciao a tutti allora di solito ho i capelli che si appartiscono da morire oggi invece cioè praticamente hanno l'antigravità comunque quello che volevo dirvi è che sono riuscita ad arrivare a 60 con la reputazione di steemit perché all'inizio quando vi scrivete avete una reputazione che penso sia sul 25 e in sette mesi sono arrivata a 60 quindi sono molto carica quindi quello che seguirà sarà un testo di ringraziamento puro verso chiunque mi abbia aiutata e niente vi invito a seguirmi su steemit a iscriversi su steemit a conoscere la nostra comunità italiana e sono qui insomma fare pubblicità per quello che posso e anche gli eter che mi scrivono insulti comunque hanno la loro utilità perché io utilizzo tutto e non butto mai via niente al limite abbellisco certe cose ma con i commenti che mi hanno fatto ultimamente gli eter dandomi della partigiana di merda io non posso far altro che essere molto ma molto orgogliosa e vi ringrazio tutti ancora seguitemi su steemit un bacione